Stai preparando il tuo curry? La tua specialità, Shinpei? Come ho fatto a non pensarci? E ti porti due piatti? Ma che... che cosa mi hai fatto? Non è colpa mia! È mio, nasconditi! Perché hai usato due cucchiai? Scommetto che hai preparato questo piatto appositamente per lei, vero? Che c'è? Che succede? Ah, no! Altrimenti io! Che calcio! Ah, ti so! Adesso ti senti meglio, no? È pietrificato!